saluto mattina benvenuti al ciao tony show il vostro appuntamento con la musica con informazioni con tutto e di più qui in diretta da studio c nella redazione di america oggi si chiama icn radio ed è la più famosa radio italiana di new york italian communication network questo è il nome per esteso è nata 36 anni fa esattamente il 29 aprile 1982 fondata da sal palmieri un dj della comunità italo americana di new york nel 2006 il gruppo editoriale oggi che pubblica il giornale america oggi unico quotidiano italiano stampato negli stati uniti ha acquistato da sal palmieri la radio l'emittente come anche il giornale si rivolge alla vastissima comunità italiana degli stati uniti in particolare quella presente a new york nel new jersey e nel connecticut i programmi e la musica trasmessa sono completamente in italiano icn radio è l'unica radio italiana che trasmette 24 ore su 24 7 giorni su 7 negli stati uniti negli anni icn radio ha instaurato una stretta collaborazione con rai international ora rai world in modo da poter offrire agli ascoltatori la possibilità di seguire un'ampia selezione di eventi sportivi di notiziari e di programmi di intrattenimento che rai italia nel programma settimanale di community l'altra italia trasmette via satellite speaker di punta di icn radio e volto noto dell'emittente è sicuramente anthony pasquale che da oltre 16 anni ogni lunedì mercoledì venerdì e sabato conduce il programma ciao tony show composto da musica interviste una trasmissione che sul web è seguita in tutti gli stati uniti e in italia da 14 anni inoltre tony segue il festival di sanremo e tanti altri eventi musicali fiere meeting sport realizzando diverse interviste nel corso dell'ottantatresimo galà della federazione delle associazioni italo americane del new jersey federation of italian american societies nel 2016 tony ha ricevuto l'italian heritage award e l'onoreficenza di uomo dell'anno lo scorso 21 aprile noi di patrimonio italiano tv siamo stati ospiti del ciao tony show parliamo di tv web tv una web tv dedicata guarda a casa gli italiani all'estero e con noi c'è l'ideatore il presidente non so il general manager lui che ha avuto questa bellissima idea michele pilla ciao michele ciao tony e ciao new york buongiorno buona mattinata a tutti